Buongiorno e benvenuti nel giardino di Palazzo Martinengo. Questo luogo avrebbe dovuto ospitare in questi giorni la mostra non virtuale degli elaborati che oggi presenteremo e che raccontano la vivacità di una rete di tanti mondi che si sono uniti in questo progetto. Il mondo dell'enogastronomia rappresentato dal territorio dei Colli dei Longobardi, aziende, comuni, realtà che si prodigano per raccontare un mondo. La rete della formazione, gli studenti della Libera Accademia Laba e di Accademia Santa Giulia che con grande interesse e passione hanno risposto alla richiesta della realtà dei Colli dei Longobardi proponendo 111 loghi, raccontando con la mano dei giovani e l'esperienza dei docenti questo mondo. Per questa rete noi ci spendiamo volentieri perché Palazzo Martinengo è da sempre nella nostra città, nel cuore di Brescia, la casa dei comuni della provincia e una casa anche per i giovani. Spesso abbiamo ospitato mostre realizzate dai giovani che promuovono l'arte nel mondo dei giovani che sono il nostro futuro e la sorpresa di incontrarne molti in questa circostanza è una sorpresa che ci fa stare bene pensando al futuro perché sarà un futuro che vedrà questo luogo. Questa casa è sempre più piena degli echi di nuove menti, di nuove proposte e del vigore e dell'intelligenza che i giovani portano. Ringraziamo loro naturalmente in questa giornata, avremo dicevo voluto ospitarli nelle nostre bellissime sale, ci sarà l'occasione, li invitiamo a venire ad incontrarci per poter raccontare insieme i percorsi di Palazzo Martinengo e ringraziamo ripeto tutte le istituzioni che danno l'opportunità a tutte queste realtà di incontrarsi su terreni comuni importanti e futuribili.